Sopralluogo all'azienda Profiglas nella zona industriale a Bellocchi di Fano per verificare le condizioni del capannone andato a fuoco domenica scorsa. L'assessore Samuele Mascarin e i tecnici dell'ufficio ambiente del comune e della regione si sono reccati nell'847 dove hanno potuto constatare che il rogo ha interessato una macchina trituratrice, un nastro trasportatore per il materiale in uscita, la copertura di una parte del capannone, un cumulo di rottami di alluminio inerte e una cabina elettrica. E' stato verificato che al momento dell'incendio gli impianti erano fermi e non c'era il personale. In base a una relazione dei vigili del fuoco inoltre è stata dichiarata l'immediata inagibilità parziale della zona interessata ma il comune ha avanzato diverse richieste all'azienda stessa per ulteriori accertamenti. In particolare abbiamo richiesto una relazione dettagliata sull'accaduto, una relazione rispetto anche agli interventi e agli azioni che sono state poste in essere per ridurre l'impatto ambientale. Abbiamo richiesto un piano di monitoraggio per le azioni successive al ripristino dell'8 e abbiamo chiesto delle analisi sulle acque riferite al pozzo di raccolta che riguarda l'847. Ovviamente nei prossimi giorni il comune di Fano insieme alla regione Marche e anche altri soggetti continuerà a monitorare la situazione e a verificare che queste azioni vengano intraprese nel modo corretto e nei tempi necessari. L'episodio, ha proseguito Mascarin, dimostra l'assoluta importanza della convenzione firmata la settimana scorsa che prevede l'installazione di una centralina per controllare le emissioni 24 ore su 24 e quindi monitorare la qualità dell'aria in tutta la zona industriale di Bellocchi. Dobbiamo fare di tutto per rendere questa attivazione la più rapida possibile e quindi dando anche un carattere di urgenza cercheremo di attivarla negli stalli che abbiamo previsto già prima del gennaio 2016, quindi entro l'anno e quindi entro poco tempo.